Cosa succede ai figli nelle famiglie omogenitoriali? Per quanto riguarda il mantenimento in generale, le norme sugli unioni civili sono molto simili a quelle delle coppie sposate, mentre la situazione cambia in caso dei figli, specie appunto per le famiglie omogenitoriali. In questo caso, infatti, possono esserci differenze a seconda che i figli siano riconosciuti o meno anche in Italia. Se per esempio in America in genere i figli di coppie dello stesso sesso sono riconosciuti a tutti gli effetti, come i figli di entrambi, pur anche se vi sono molte differenze tra uno stato e l'altro, in Italia rimane una disparità tra diritti del genitore biologico e quello diciamo sociale, a causa del divieto del ricorso a gestazione per altri. Nei fatti, come è noto infatti, molte coppie ricorrono a questa procedura all'estero, per poi richiedere la trascrizione dell'atto di nascita presso il comune di residenza, se questo lo permette. Per esempio, in questi giorni, diciamo, di questa problematica si affronta, o meglio, è avvenuta discussione proprio a seguito, diciamo, della dichiarazione di Tiziano Ferro della sua separazione. Sappiamo che appunto Tiziano Ferro si è unito in matrimonio prima in America e poi comunque l'ha ricelebrato anche in Italia, va bene, e ha adottato, nel senso, ha adottato due figli. Ecco, in questo caso in America la disciplina è ben diversa rispetto in Italia e quindi, ecco, in Italia il diritto di Tiziano Ferro, diciamo, del genitore sociale è, diciamo, limitato rispetto a quello del genitore biologico. In America no. A mio avviso ci vorrebbe ovviamente una legge più moderna, anche in Italia, che si adegui agli altri stati. Oggi si parla ovviamente di questa legge Cirinna, di questa legge delle unioni civili, che ha fatto un piccolo passo in avanti, ma che comunque non può dire, e non si può dire ovviamente che in Italia si sia, diciamo, al pari di altri paesi sicuramente più avanti e con mentalità sicuramente più aperta, ma anche più, diciamo, adeguata ai giorni nostri. Bene, se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere un mi piace e a iscriverti al mio canale per essersi sempre aggiornato sui miei prossimi video e per toglierti ogni curiosità o dubbio in materia di diritto di famiglia. Se invece vuoi assistenza, oppure vuoi semplicemente raccontarmi il tuo caso o vuoi un'analisi specifica della tua situazione, puoi scrivermi all'indirizzo che trovi in sovraimpressione e sarò lieto di ascoltarti e assisterti nel migliore dei modi. Ciao, a presto.